Siamo incontrati in un'età adulta, matura, e che c'è un'interazione, non questa ragionanza, non è che c'è un'interazione, non è che c'è un'interazione, non è che c'è un'interazione, non è che c'è un interesse, non lo è assolutamente, perché lì è il soggetto, il mio avuto, il mio padre, il mio padre, come questo, questo mi ha detto moltissimo, Sì, è un po' di testo questo, è un po' di testo, è un po' di più di tempo, posso dire una cosa, perché è un'altra, perché è un'altra, perché è un'altra, perché è un'altra, quello era belezza, concele, assembliato, una totologia di muito, figlio, che erano bellissime, perché rappresentava la donna, nella która, nella vulnerenza del suo cuore, ricopera come una liberazione di quei tempi per i costumi che la chiesa imponeva. E allora chi dipingeva in quell'epoca papale era proprio per esprimere la nuova emancipazione femminile, una nuova libertà della nuova castrazione, perché il concetto poteva piacermi. Anche io non c'è più, perché io non fico. Quello è banale.